Eccoci qua, un caro saluto a tutti quanti, importante aggiornarvi anche sul fronte nuovi driver appena rilasciati, dei driver GeForce Game Ready Ogni volta tra l'altro io cerco anche di riabilitare l'HDR perché c'è un problema, almeno su tantissimi monitor, il mio è uno di quelli Ma ho scoperto, ripeto, non è un problema del monitor ma è un problema dei driver Windows barra Nvidia Quindi sono anche molto curioso di sapere se voi avete questo tipo di problema Che praticamente ogni tot per alcuni contenuti in HDR, tipo che ne so, guardate un video su YouTube, poi saltate da un'altra parte eccetera eccetera Iniziano a sparare una colorazione accesissima che non c'entra assolutamente nulla E questo ovviamente è un po' un problema Ma intanto andiamo a parlare perché ci sono gli aggiornamenti Questa tra l'altro è una delle ultime, vedete, gli ultimi aggiornamenti che supportano le nuove schede grafiche GeForce RTX 4070T, super grandi schede Ottima idea ma ovviamente, come dico sempre, se potete aspettare, aspettate perché tra fine anno, inizio anno prossimo, arrivano le nuove generazioni 50-70T Quindi secondo me è più che sufficiente Penso anche che porteranno i 12-16GB su tutta la prossima generazione Visto che sono stati parecchio presi in giro proprio per la mancanza di una hardware assolutamente fondamentale E soprattutto la prossima generazione avrà anche tutta una serie di attenzione per i nuovi Anche di la nuova intelligenza artificiale che verrà implementata anche qua Ma concentriamoci sulle novità del nostro sistema Ecco, una cosa ovviamente molto importante Dicevo, ci sono delle novità sul fronte, come si dice, delle schede grafiche Ma se vi va di andare ad iscrivervi sul mio canale Simus Playroom Giocheremo a tutta una serie di titoli che sono legati a questo Tipo Skull and Bones Ormai è fatta, quindi lo giocherò Ci sono le novità di questo nuovo titolo che è Banisher Ghost of New Eden Titolo, devo dire, confesso, molto sinceramente piuttosto controverso Perché leggo, non l'ho giocato e ve lo anticipo prima, non lo giocherò neanche Ma insomma mi ha lasciato così sul fronte Cioè delle recensioni che ho letto del tipo Super trama ma gameplay in me E a me, quando mi feriscono sul gameplay, per me è un colpo al cuore Small land, non so nemmeno che cosa sia Mentre andiamo a vedere le novità che sono quelle più interessanti Vedete tutta una serie di ottimizzazioni Su tutta una serie di schede grafiche con ovviamente le novità E la differenza naturalmente con Dalla 30-70 versus 40-70 Qui, vabbè, 20-70 Super contro la 30-70 Ti Contro la 40-70 Ti Super Vabbè, sì, cioè non mi sembra Cioè mi sembra un mix Un mix un po' che abbia poco senso Volevo far vedere che comunque C'era abbastanza duro Però, diciamo, abbastanza logico Da questo punto di vista Volevo anche vedere DLSS per Inshrud DLK Dragon Nuovissimo titolo Tekken 8, ragazzi, mamma mia Tekken 8 Che roba esagerata L'ho giocato tantissimo Se cercate sul mio canale Simos Playroom Vi trovate tutta quella roba qua In anteprima Perché l'ho giocato Ho avuto il codice Quindi me l'hanno dato davvero Con grande anteprima E ho pubblicato i video Ovviamente Lato recensione Per una testata Naturalmente Ma ovviamente Ho rispettato Tutte le ore Minuti Dell'embargo Di questa cosa Quindi Lo trovate lì E ovviamente c'è anche Sui Thread Squad Che insomma Sta arrancando Grandi problemi Per una delle software house Che al tempo Di Batman Arkham Era assolutamente In cima Alla catena alimentare Oggi Probabilmente Rischia anche La chiusura Niente Queste sono tutte Le novità Abbiamo novità Appunto anche Con DirectX 12 In generale E secondo me Riduce anche Un po' di problemini Quindi proverò A riattivare L'HDR E vi aggiornerò Se ho ancora Nuovamente Dei problemi Grazie a tutti Alla prossima E ciao Alla prossima